Presidente, Commissario, onorevoli colleghi, oggi si apre una plenaria decisiva per le ambizioni che l'Unione si è posta con il Green Deal. È quindi necessaria un'ampia condivisione politica della strategia che intendiamo seguire, piuttosto che spaccature all'interno del Parlamento che non ci consentiranno di avanzare in modo equilibrato. In questo senso, per raggiungere efficacemente gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento previsti dalla Direttiva sulle emissioni industriali, occorre un approccio che contempli non solo i tre livelli di sostenibilità, ma anche le specificità di ciascun settore, a partire da quello dell'allevamento. One Side Fits All ha infatti ampiamente dimostrato i suoi limiti e, come Commissione Agricoltura, riteniamo quindi sia un errore paragonare le stalle europee alle ciminiere, assoggettando ai vincoli della Direttiva anche gli allevamenti bovini. Un errore scientifico e pratico che rischia di mettere a repentaglio decenni di avanzamento capaci di farci raggiungere i più alti standard produttivi e di benessere animale al mondo. Siamo pronti a lavorare insieme, caro Commissario, per sviluppare politiche altrettanto ambiziose, ma che rispettino le peculiarità di differenti filiere produttive, a partire da quella bovina. Grazie. Grazie.